A volte succede che due eccellenze italiane si incontrino, due brand che condividono la passione per il bello, che hanno una storia unica, che disegnano e realizzano i sogni dei propri appassionati. Due brand che, pur in ambiti molto diversi, danno a vita prodotti unici, con un'identità inconfondibile e che testimoniano nel mondo l'eccellenza del Made in Italy. Oggi, con il settimo episodio della Ducati World Premiere, vi presentiamo il frutto della collaborazione fra Ducati e Poltrona Frau. E lo facciamo dal luogo che, come il Museo Ducati a Borgo Panigale, testimonia la storia prestigiosa di questa azienda e dove si possono ammirare i prodotti iconici che l'hanno resa celebre. Siamo infatti nel Poltrona Frau Museum. I valori comuni tra i nostri brand Poltrona Frau e Ducati sono stati un ottimo punto di partenza per una collaborazione che ci ha appassionato fin dal principio. Per Interiors in Motion, business unit da sempre, associata alla mobilità di lusso tra auto, yacht ed aerei, poter collaborare con un'azienda che, come noi, unisce una forte identità storica con la ricerca dell'eccellenza e stata fonte di grande ispirazione e motivazione. Da questa unione è nato un prodotto esclusivo ed unico nel suo genere. La nuova XDA Vellnera, un'edizione numerata e limitata a 500 esemplari per clienti che desiderano una personalizzazione della propria moto a livello artigianale, così da renderla unica e inconfondibile. E ora andiamo a scoprirla. La nuova XDA Vellnera Grazie a tutti X-Diavel è la Tecno Cruiser di casa Ducati e ne esprime appieno il DNA e i valori, style, sophistication, performance e trust. Nel progetto X-Diavel abbiamo voluto combinare due mondi apparentemente inconciliabili. Da una parte il mondo cruiser, caratterizzato da una guida rilassata e confortevole, con sella bassa, pedane avanzate, senza dimenticare la trasmissione finale a cinghia. Dall'altra il mondo Ducati, fatto di adrenalina e sportività, design sofisticato e tecnologia allo stato dell'arte. I materiali pregiati ed autentici e la grande cura per i dettagli e le finiture completano una moto inconfondibile. Il concept creativo alla base del progetto X-Diavel nera aveva come obiettivo quello di rendere ancora più elegante e allo stesso tempo sportiva una moto già speciale e unica come la X-Diavel. Il suo design è caratterizzato da alcuni elementi chiave. Innanzitutto il motore, the engine is the king come diciamo in Ducati, il motore ben visibile al centro della moto. Poi le linee fluide e seducenti e di serbatoio a goccia in vista side, scultorio e muscolare. Infine il telaio a traliccio, completamente a vista e la coda corta, snella e agile. La livrea Black on Black, che alterna porzioni nere lucide e opache, si abbina a dettagli in rosso Ducati, come le pinze freno Brembo e coperche delle teste del motore, in una combinazione raffinata ed impatto. Altro elemento che caratterizza la X-Diavel nera sono i cerchi, forgiati in alluminio, completamente lavorati e verniciati in nero. Ma veniamo alla speciale sella realizzata in pelle, progettata assieme ai designer di poltrona frau. I colori disponibili sono cinque, rosso Siam, il classico rosso di poltrona frau, steel blue, cemento, india e selva. Sulla seduta, il motivo grafico della X richiama il nome X-Diavel ed è stato realizzato tramite un processo di laseratura ad alta precisione. Abbiamo pensato anche ad una sella comfort, più ampia e ad uno schinalino, sempre in pelle frau, adatti per viaggiare in due, in maniera confortevole, ma senza rinunciare allo stile. X-Diavel nera avrà in dotazione un portachiave ed un portadocumenti in pelle frau, ovviamente in colorazione abbinata alla sella. Abbiamo infine creato un casco che richiama la livrea Black on Black e che sarà disponibile come accessorio esclusivamente per i clienti di X-Diavel nera. C'è grande soddisfazione per il lavoro svolto insieme al Centro Stile Educati. Per questo progetto è stata utilizzata la nostra pelle frau, pelle che coniuga i pregi tipici del settore dell'arredo di alta gamma, con la necessità di ottenere le più alte performance in termini di resistenza come nel caso di X-Diavel nera. È una pelle naturale, a pieno fiore, morbida, setosa ed elegante, che acquisisce personalità con l'utilizzo ed il passare del tempo. Il colore è sempre stato nel nostro DNA e la scelta delle cinque varianti condotte in collaborazione con il Centro Stile Educati che offre combinazioni cromatiche estremamente ricercate. Le selle vengono interamente realizzate a mano dagli artigiani di Poltronafrau proprio qui nel nostro stabilimento di Tolentino. X-Diavel, come dicevamo, è il risultato della contaminazione fra due universi apparentemente distanti, il mondo cruiser e il mondo Ducati. La sintesi perfetta di questi due mondi si ritrova nelle caratteristiche del motore testa stretta DVT 1262 con variatore di fase. Motore che garantisce un'erogazione corposa, regolare e una curva di coppia piena ad ogni regime. In configurazione Euro 5 il motore eroga una potenza massima di 160 CV e una coppia massima di 13 kg disponibile già a 5.000 giri al minuto. La ciclistica della moto, la ridotta altezza da terra 755 mm e la posizione avanzata delle pedane sono pensate per offrire grande facilità di guida e comfort quando si viaggia a velocità ridotta e in pieno relax e allo stesso tempo massimo divertimento nella guida sportiva. L'ergonomia è completamente personalizzabile grazie alle pedane regolabili su tre posizioni oppure con accessori come manubri di forma differente, pedane arretrate rispetto a quelle standard o addirittura in posizione centrale. La combinazione tra il terraio a traliccio in tubi d'acciaio, le sospensioni e le quote ciclistiche garantisce agilità e maneggevolezza. X-Diavel Nera è equipaggiata al posteriore da uno pneumatico da ben 240 mm di larghezza montato su un cerchio con canale da 8 pollici che rende la moto ben riconoscibile da qualsiasi angolazione la si guardi diventando elemento di stile fortemente caratterizzante. Il particolare profilo dello pneumatico poi consente un angolo di piega massimo di 40 gradi un valore impensabile per una moto di questa tipologia. Il forcellone monobraccio è un oggetto d'arte realizzato combinando differenti tecnologie. La parte superiore è un traliccio in tubi di acciaio mentre quella inferiore è un fuso in alluminio con un componente forgiato al centro. L'impianto frenante è potente e modulabile dotato come tutta la gamma Ducati di ABS cornering. All'anteriore è caratterizzato da pinze Brembo monoblocco M50 e due dischi da 320 mm mentre al posteriore troviamo un singolo disco da 265 mm. L'impianto luci è full LED con DRL il sistema di luci diurne all'anteriore di forma d'omega ben riconoscibile di grande impatto visivo. X-Diavel Nera è equipaggiata con piattaforma inerziale che misurando dinamicamente gli angoli di roglio e beccheggio nonché le velocità relative di variazioni di assetto fornisce le informazioni all'ABS cornering permettendo di migliorare in maniera sensibile prestazioni e sicurezza. Questo sistema, assieme al controllo di trazione, ai riding mode, al cruise control e al power launch fanno di X-Diavel Nera una moto tecnologicamente avanzata performante e sicura. La dotazione elettronica è completata dal cruscotto su due livelli con schermo TFT a colori e animazione al Kion dedicata oltre a system hands free per poter utilizzare la moto con la chiave in tasca o in borsa. X-Diavel Nera completa la gamma Ducati X-Diavel per il 2022 affiancando X-Diavel Dark e X-Diavel S. Ora non vi resta che scegliere il colore di pelle Frau che più rispecchia la vostra personalità e salire in sella. Allora non vi resta che scegliere x-Diavel Nera Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.